Importanti novità in arrivo per i nati sotto il segno del cancro secondo l'oroscopo del giorno 11 novembre. I sagittario, invece, sono un po' preoccupati per qualcosa che li turba. Oroscopo da ariete a vergine ariete. Giornata molto interessante dal punto di vista sentimentale. Ci sono delle ottime opportunità in arrivo anche per quanto riguarda il lavoro. Cercate di tenere gli occhi ben aperti sulle nuove occasioni. Toro. L'oroscopo dell'11 novembre denota un inizio giornata un po' sottotono. Non siete esattamente al top della vostra forma fisica, pertanto, è il caso di non sforzarvi troppo. Gemelli. In questo periodo vi sentite stranamente ispirati. Questo non capita molto spesso, quindi, cercate di approfittare di questo periodo per darvi da fare. In amore è tempo di essere un po' più onesti con voi stessi. Cancro. La vita talvolta si diverte a mescolare le carte e a rendere il vostro futuro un po' più incerto. Da bravi giocatori, però, non vi resta da fare altro che accogliere di buon grado queste novità e farne tesoro. Leone. Buon momento per iniziare un nuovo progetto e per volare pagina. Chi ha appena chiuso una relazione potrebbe ricevere qualche interessante sorpresa. La cosa importante, però, è non trascurare i vostri bisogni. Vergine. Ci sono dei momenti nella vita in cui è necessario rimboccarsi le maniche e, se necessario, ripartire da zero. In ambito professionale non dovete farvi mettere i piedi in testa da nessuno. Previsioni 11 novembre da bilancia a pesci bilancia. In amore ci sono delle buone probabilità di vivere delle belle esperienze. Cercate di non farvi abbattere dai piccoli intoppi e incidenti di percorso. Nel lavoro bisogna essere determinati. Scorpione. Siete alquanto soddisfatti di quanto ottenuto fino a questo momento. Caratterialmente, però, tendete a non volervi mai accontentare, pertanto, sarete spronati a desiderare sempre di più. Sagittario. Siete un po' indecisi su una decisione da prendere. C'è qualcosa che vi tormenta, quindi, forse è il caso di prestare attenzione alle persone che vi circondano e a come agiscono. Capricorno. Capricorno. Le previsioni dell'oroscopo dell'11 novembre vi invitano ad essere un po' più scaltri. Spesso tendete a dare troppe cose per scontate e questo potrebbe portare alla nascita di qualche inconveniente. Acquario. Le stelle sono un po' birichine in questo periodo. Ci sono delle situazioni da mettere a posto e dei nuovi impegni da gestire. Nulla che non possa risolversi con un po' di organizzazione. Pesci. In amore siete abitati a donare tanto, ma talvolta è bello anche lasciarsi andare e accettare quello che vi donano gli altri. Nel lavoro è bene non essere troppo pretenziosi in questo momento.